E questa era la prima scelta del nostro prossimo ospite, Giacomo Nanni, che abbiamo in collegamento. Benvenuto, buongiorno. Ciao Giacomo, buongiorno. Nella versione video di questa intervista sto mostrando un ottimo volume, un giorno la sera. Giacomo, iniziamo proprio con le direzioni. Flavia lo tiene così, cioè con la costa verso l'alto. Io invece come se fosse un album fotografico, orizzontale. Come si tiene? Come possiamo mostrarlo? Evidentemente in orizzontale per poterlo leggere, in verticale per poter leggere il titolo invece. E' un formato che è interessante perché in Francia, dove il libro è uscito inizialmente, si chiama Formato all'italiana. Ah! Ha stupito anche a me i primi anni che ero qua e non riuscivo a capire per quale motivo, ma viene da una cosa interessante perché viene da molto lontano, dagli anni 30-40, quando i fumetti in Italia erano pubblicati in quel formato là. E quindi i primissimi fumetti che venivano importati all'Italia, venivano stampati in quel formato in Francia e per cui è stato chiamato all'italiana. Poi è scomparso in Italia. In Francia è rimasto. E' più... succede più spesso di vedere qui dei libri in questo formato qua. A questo punto possiamo anche esplicitare la distanza del nostro collegamento perché Giacomo Nanni è in Francia, esattamente a Parigi, giusto? Sì. Noi invece siamo in Italia, a Roma. Ma questo lavoro e anche il discorso appunto della forma, del formato, mi permette di arrivare alla prima domanda che è effettivamente ciò che mi ha colpito inizialmente. Prima di iniziare a leggere la prima riga, addirittura prima di leggere proprio il titolo, quanto la forma, il formato, ma soprattutto questa storia, siano arrivati a te e poi abbiano prodotto questo oggetto proprio, questo un giorno, la sera, così. Come lo vediamo nell'edizione che arriva in Italia grazie a Rules. Puoi anche raccontarci, io sono quello sicuramente sempre pavido di spoiler, qui non credo sia tanto importante sapere come finisce la storia. No, infatti, infatti. Però mi piace moltissimo sapere come è arrivata a te, non l'ispirazione, ma questa storia, questa modalità e poi come l'hai trasportata arrivando fino a questo. Sì, sì. Diciamo che in questo caso sì, il formato e la storia vanno di pari passo proprio per la Genesi, perché è iniziato, l'idea era quella di fare un libro di immagini solamente, e cioè una storia, potrebbe dire, muta, ma veramente una collezione di immagini che fosse anche una sequenza leggibile come una storia e quindi avere soprattutto, avete visto, ci sono alternate. Una pagina contiene un'immagine grande che occupa l'intera pagina e la pagina accanto ha quattro vignette, quindi di alternare questi due formati in maniera tale, insomma, in un certo modo era l'idea di mischiare l'illustrazione e il fumetto, o di fare qualcosa che fosse ambiguo fra le due. Col tempo questa sequenza ha veramente donato vita ad una storia vera e propria che aveva bisogno di essere raccontata con un testo, ecco. Quindi è venuta fuori la storia di questo personaggio che stava inizialmente semplicemente in un'illustrazione, era qualcuno che usciva dal metro e camminando in un certo modo questa silhouette sembrava interessante e con l'andare del tempo, con il passare del tempo, insomma, mi è venuta l'idea per raccontare, l'idea di raccontare la sua situazione, ecco. Questa è comunque sia, sì, diciamo che viene un po' dall'osservazione anche quotidiana di quello che succede nella strada. C'è tanta povertà in strada. Beh, anche qua in effetti. Prima di entrare in un discorso stilistico che è sicuramente molto interessante, io vorrei tornare proprio alla storia e più che altro alle atmosfere. Questa è una storia un po' di bisogni, secondo me. Cioè c'è un bisogno economico, c'è un bisogno affettivo, un bisogno emotivo, e le due cose, diciamo, vanno in maniera parallela e a un certo punto sembrano incrociarsi, ma contemporaneamente è come se il protagonista percepisse che il fatto che si incrocino questi due bisogni è qualcosa che lo sconvolge e che non lo convince del tutto, no? Cioè, da una parte c'è la bellezza, l'amore, la fascinazione, dall'altra c'è il denaro, che è come se fosse, diciamo, qualcosa che trascina verso il basso la storia. E volevi raccontare questo? Cioè, volevi raccontare anche un po' il contrasto, ecco, fra un bisogno primario, una necessità fisica quasi e una necessità emotiva? Sì. L'hai detto forse meglio di come avrei potuto dirlo io, perché, diciamo, la bellezza di raccontare una storia è anche quella di lasciare sottintesa un'idea, in maniera tale che ognuno possa anche farsi un'idea, appunto, e per cui non è detto che tutti abbiano colto questo aspetto, cioè non è che ci sono vari livelli di lettura, suppongo, quindi può anche essere semplicemente una storia d'amore che si conclude, diciamo, in modo strano, e allo stesso tempo sì, c'è quest'aspetto per cui le due cose, cioè il suo desiderio di, veramente, di qualcuno da amare, si potrebbe dire così, e allo stesso tempo il bisogno di poter veramente passare la giornata con un pasto decente vanno di pari passo, ecco, che potrebbe anche essere, come dire, considerata ridicola come cosa, però, come dici tu, è per dare un senso di impellenza, di assolutezza in questo desiderio, ecco, quindi come le due cose in realtà non si può fare meno delle due cose, almeno in questo mondo in cui viviamo, ecco. L'interessante è capire quanto le due cose, diciamo, entrino l'una nell'altra, e questa è un po' la sfida, credo, insomma, anche nella storia, no? Si percepisce un po' il disagio del personaggio, del protagonista, che a un certo punto forse vorrebbe dedicarsi totalmente alla parte affettiva, che però, diciamo, la necessità lo costringe a spostare il suo obiettivo, o comunque a farci entrare lo stesso, un discorso che non vorrebbe, magari, no? Si, 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 infatti. Leggere questo, un giorno o la sera, questa storia, questo libro fotografico con fumetti, o libro a fumetti con illustrazioni, no, non è proprio un libro fotografico, ma ha la forma del libro fotografico, rende appunto molto bene, tra l'altro sono contento che anche questa conversazione sarà anche una versione radiofonica, quindi dobbiamo stare molto attenti a tradurre le immagini in parole chiare, però rende molto bene il gioco di tensioni che c'è nel protagonista, nella storia, nella dinamica tra gli elementi in gioco, per non parlare della città. Ma soprattutto, io a questo punto vorrei sapere un pochino di più quello che nella cartella stampa viene definito puntinismo. Non sono molto d'accordo, perché mi sembra più una volontà di andare ad allargare tantissimo lo zoom su queste tensioni, più che questi personaggi, queste storie, questo luogo. E l'effetto è più o meno quello di quando si vede un quotidiano, ma da molto, molto, molto vicino. Quindi, appunto, non sono d'accordo sul puntinismo, però rende appunto anche graficamente molto, molto bene questa volontà di entrare nello spazio, non lo spazio bianco dei fumetti, ma lo spazio tra le cose, tra le persone, anche tra i sentimenti. È un po' forse un rendere la particella fisica, mi viene da dire, no? C'è la particella atomica quasi, no? E come nasce questo tuo stile? Cosa effettivamente vuoi rendere a livello visivo? Allora, sì, no, il discorso di, in effetti, di soffermarsi sulle cose che vediamo come se fossero dei dettagli, no? Un po' questo. Diciamo, è un'idea che non ho scartato, cioè non è che ci avevo pensato effettivamente. E c'è l'idea un po' di... In effetti è ambiguo, è come vedere le cose più da lontano e allo stesso tempo soffermarsi sui dettagli. C'è quest'idea un po' di ambiguità sulla distanza fra noi e le cose, no? Che è messa in gioco con questa forma di puntinismo, perché si ricorda molto, il modo in cui io lo utilizzo ricorda i ritini di stampa. In effetti è una via, diciamo, che è ispirata allo stesso modo dal puntinismo tradizionale, diciamo, del secolo scorso di Seurat, Signac, i francesi, e allo stesso tempo dalle tecniche di stampa moderne, insomma. Quindi le due cose vanno assieme. Però sì, quello che mi interessa è proprio tecnicamente anche il fatto che quando per esempio c'è nel libro, c'è un colore verde, per esempio c'è un prato con dei polli, i polli sono arancioni e il prato è verde, ma effettivamente quello che io ho fatto è sovrapporre un retino giallo al blu e al rosso. E questa cosa mi piace molto, ecco. Cioè non c'è veramente un verde, non c'è veramente un arancione, perché il verde è ottenuto dalla sovrapposizione fra il blu e il giallo, così come l'arancione, insomma. E questa cosa qua è una cosa che mi, come dire, mi ha da sempre ispirato, ecco, per un motivo che non so nemmeno io quale, sinceramente, ecco. Ma sicuramente una delle ispirazioni più forti è quella metropolitana, lo diceva anche Giovanni, la città stessa. La città che è un protagonista, una protagonista, evidentemente Parigi, insomma, o comunque parti di Parigi, un certo tipo di architettura, degli esercizi commerciali abbastanza riconoscibili, evidenti. Un certo periodo dell'anno. Sì, esatto, anche un po' un'atmosfera forse climatica, mi viene da dire, no? Fisica. Che tipo di ispirazione ti dà questa città? E com'è renderla? Che cosa è difficile anche nel rendere Parigi, nel disegnare Parigi? Allora, diciamo che, sì, la zona che, questa zona nella quale si ritrova il protagonista a divagare un po' tra il metro e anche la passeggiata, è una delle zone che conosco meglio, perché, anche se ho cambiato casa diverse volte, veramente sta su una linea di metro che quella che si vede è la 2, è un po' la 9, ecco. E' una zona, diciamo che non mi avrebbe ispirato allo stesso modo nei primi anni in cui stavo qua, ecco. Bisogna un po' conoscere, conoscerla per, e questo è normale effettivamente, un po' conoscerla per capire quali sono i tratti distintivi, ecco. Poi, l'ispirazione viene dal fatto che ci sono questi palazzi osmaniani che sono fatti in un certo modo, sì. Poi i supermercati, in realtà, quelli che si vedono, stanno soprattutto in periferia, perché, appunto, c'è questa linea di metro che arriva fino a fuori la città. E' difficile dire. Comunque, la cosa che mi ha ispirato di più è il fatto di vedere giovani, ragazzi, anche chiedere le lemosi alle metro, ecco, che ti spiegano esattamente per quale motivo si ritrovano fuori casa, cosa che non ho mai visto fare in Italia. A questo punto, visto che noi ti raggiungiamo a relativamente poco tempo dall'uscita di questo volume in Italia, è stato presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino, eri al Salone del Libro di Torino e hai anche fatto un piccolo giro di presentazioni in Italia. A questo punto mi farebbe piacere sapere, oltre alla reazione del pubblico che hai incontrato sulla tua opera, anche di te, che reazione hai avuto tu ritornando in Italia, rivedendo questa Italia, rivedendo questo pubblico. Forse anche un po' il confronto con la scena, diciamo, parigina, la scena francese, perché sicuramente questa è una cosa molto interessante per noi che siamo qua. Sì, beh no, è stato comunque sempre molto bello, anche perché poi si incontrano altri autori, altri colleghi, anche amici, che non vedevo da un contratto di gente che non vedevo da un po' di anni, quindi mi ha fatto veramente, è stato molto bello, mi ha fatto molto piacere. E poi, comunque, il Salone del Libro è molto bello, il Salone del Libro di Torino. No, beh, le differenze sono... Ragazzi, se volete vi parlo della situazione politica in Francia. Eh, beh, vai, vai. Perché no? Ma la differenza, le differenze, no, ma le differenze sono tante. Nel mercato francese c'è una, diciamo anche, una base di fumetto alternativo, diciamolo così, e è molto più vasta, per il motivo che il mercato del fumetto più popolare è ancora molto più ampio. Cioè ci sono, si vendono tantemente tanti libri dal punto di vista del mainstream che anche, diciamo, un editore alternativo francese equivale quasi a un grosso editore italiano. Ok. Questa è la differenza di base. Cioè, nella qualità e anche nella qualità dell'impegno che ci può mettere. Questa è la differenza. E poi, in realtà, sì, non so bene che altro. Politicamente siamo un po', c'è un po' di casino, c'è qualcosa di grosso questa domenica, quindi non so come andrà a finire. Comunque sia il partito di destra viene finito, estrema destra in Francia, contraria anche in Italia. E perché un po' lo è, diciamo, è molto più... Il partito di Le Pen ha un aspetto molto più radicale rispetto anche a Fratelli d'Italia. C'è qualcosa di complesso. Di che è tutto dire, comunque. Cioè, c'è il senso che anche rispetto a Fratelli d'Italia. Sì, sì. Poi, appunto, sono opinioni politiche, però... ...dono più vicinanza... Che, tra l'altro, è dimostrato dalla vicinanza anche politica che hanno dimostrato. C'è più... C'è una vicinanza piuttosto con la Lega che è con Fratelli d'Italia. Ok, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, invece, scusami, per quanto riguarda il pubblico, è vero che qua, diciamo, c'è una situazione editoriale sicuramente diversa, ma in generale, io credo, per quanto riguarda i prodotti culturali, che è diversa, ma per una questione politica anche. Cioè, politica nel senso di anni di politica culturale costruita in maniera diversa rispetto a quella francese, poi, a prescindere dalle, diciamo, dalle direzioni ideologiche, no? Cioè, proprio un discorso di, credo, di sostegni, cose fatte, cose non fatte, insomma, proprio una cultura diversa. Bravissima. Una politica culturale diversa. Però, invece, proprio il pubblico, visto che tu hai modo di fare il confronto, no? Che tipo di lettori e lettrici sono i francesi e che cosa hai notato anche rispetto all'Italia, a quegli italiani? È una prospettiva sicuramente falsata, per cui non è difficile dire. Come dicevo, appunto, c'è un fumetto, diciamo, alternativo, un pochettino più forte, e quindi anche ci sono più lettori interessati ad andare al di là del mainstream, ce ne sono di più. E quindi questo fa molto la differenza. E oltre a quello, diciamo che... Sì, questo fa sì che poi si trovino anche più, diciamo, è normale che statisticamente, siccome ce n'è di più, tra quelli ce ne sono anche di molto intelligenti, ecco. Però non è che i lettori francesi sono più intelligenti di quelli italiani. No, no, certo. Tra l'altro, il discorso sulle politiche culturali, appunto, è il rischio che corriamo in Francia con queste elezioni prossime. C'è stato fatto un calcolo sul programma del partito di Le Pen e la parola cultura non compare quasi mai. a questo punto io vi invito veramente tantissimo a entrare, innanzitutto a acquistare un giorno, la serie di Giacomo Nanni edito da Rules, anche perché appunto abbiamo raccontato lo spazio che c'è anche per il lettore e per la lettrice per entrare in questa storia e c'è anche uno spazio anche per fotografare o un vuoto emotivo di un personaggio maschile in una maniera che non sempre si vede ma anche uno spazio per anche trovare eventuali propri vuoti e parlo da maschio proprio, quindi è molto interessante sia graficamente, artisticamente è un'alternativa veramente molto stimolante e quindi ti ringrazio veramente tanto per questo lavoro, per questa chiacchierata e appunto sarà divertente magari vedere a lunga distanza come verrà poi sviluppato questa tecnica che a questo punto maneggi assolutamente con sicurezza ma appunto andando sempre verso la profondità puoi sperimentarla su cose stai già pensando a qualcosa? Stai lavorando a qualcosa? è possibile, sì e sto lavorando sì a qualcosa una storia nuova ma siccome sto lavorando alla storia ancora il disegno è un po' da parte diciamo quindi non ci sono grosse novità però in effetti col disegno sto lavorando molto a dei disegni in grande formato bene che mi piace molto magnifico veramente grazie grazie mille a Giacomo Nanni un giorno di sera grazie a presto ciao grazie a tutti grazie a tutti